Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento. Ho il piacere e l'onore, appunto, con l'avvento di oggi, di concludere questo importante ed interessante primo ciclo di interventi. L'obiettivo di questo incontro, in qualche modo accentratore di tutti gli argomenti finora trattati, è quello di offrire alcuni concetti, spunti ed approfondimenti relativi al processo di automazione in un sistema in riguo. Informazioni utili e necessarie, magari, ad una migliore comprensione delle potenzialità e dei vantaggi espressi nei termini di efficienza e risparmio delle risorse come acqua, terra, tempo e denaro. L'automazione, per definizione, è ricorso ai processi e gli strumenti utili ed in grado di ottimizzare e migliorare le prestazioni in modo efficace di una qualunque attività. Attività che già di per sé potrebbe già essere efficiente, elevando, inoltre, la funzione dell'uomo al ruolo di coordinatore. Il tema è così ampio che lo rende quasi impossibile da affrontare come argomento singolo o specifico. Durante la preparazione dello storytelling, termine tanto caro agli amici del marketing, cioè la narrazione dei contenuti all'interno della presentazione, mi sono trovato più di una volta a stravolgere completamente l'ordine degli argomenti e di punti di vista. Alla fine, ho optato per un percorso che mi auguro possa offrirvi spunti di riflessione, confermare alcune nozioni, generare nuove curiosità per ulteriori ed eventuali approfondimenti. Vi ricordo che, come sempre, potrete interagire durante tutta la presentazione utilizzando lo strumento Q&A e che, al termine del monologo, avremo la sessione aperta per le domande e le risposte. Andiamo ad iniziare, quindi, questo percorso collegando con dei puntini immaginari l'interrelazione che da sempre esiste tra agricoltura, irrigazione, progresso e sviluppo tecnologico. Il legame agricoltura ed irrigazione è un legame indissolubile sin dagli inizi della storia umana. Da sempre l'agricoltura ci sostiene, consentendo di fatto lo sviluppo e l'evoluzione del genere umano. L'irrigazione è lo strumento, invece, inventato dall'uomo per fare e sviluppare l'agricoltura, in risposta alle necessità della gestione di forze e risorse nettamente più grandi. Le nuove e rinnovate esigenze, sociali ed economiche, hanno portato nel tempo a sviluppare nuovi prodotti e tecniche sempre più efficienti. Per comprendere l'importanza del legame irrigazione e progresso, proviamo a pensare al percorso storico. Tutto è iniziato con la gestione controllata delle esondazioni dei grandi fiumi. Ed oggi parliamo di smart farming. Poiché il primo step per il progresso è lo sviluppo e l'affinamento della tecnica, l'aumento dell'esperienza alimenta la consapevolezza e la necessità del miglioramento. Così lo è stato anche per l'irrigazione, un percorso di tecniche così stravolgente che, dall'inondare le intere pianure, ci ha condotto oggi alla somministrazione per gocce localizzate direttamente alla radice della pianta. Tutti abbiamo, oramai più o meno chiaro, l'associazione del concetto di microirrigazione con il termine di efficienza irrigua, nel senso di distribuzione uniforme ed efficiente delle risorse. Grazie ad un'applicazione localizzata, con rilascio lento e controllato di acqua e di fertilizzanti all'interno di un impianto in microirrigazione, questo ci consente di erogare laddove è richiesto e quanto realmente necessario. Questa tecnica ci permette di migliorare sensibilmente la resa e la qualità della cultura prodotta, nonché di ridurre i costi generali e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse. Per definizione, ma anche per dei riscontri oggettivi offerti da dati e da risultati riconosciuti, la microirrigazione offre valori di efficienza nettamente superiori rispetto a qualunque altro impianto irrigua, raggiungendo valori di efficienza e di applicazione attorno al 95%. Cristian, perdonami se ti interrompo, non è partita la presentazione, quindi ti chiedevo per avviare nuovamente lo schermo, scusami. No, non si vedevano le slide. Nessuna? Nessuna, nessuna. Porca miseria. Eh vabbè, fa niente, sono i problemi tecnici, normalmente siamo in diretta, quindi è giusto così. Allora, scusate. Io lo vedevo e ce l'ha segnalato un utente adesso. Eh sì. Capivo che non era solo un problema mio. No. Ok, perfetto. Scusate, fatemi... Adesso vedete. Benissimo, grazie. L'audio riuscivamo a sentirlo, immagino. L'audio è perfetto, sì. Grazie, scusami se ti ho interrotto. No, no, niente, cerco di recuperare il punto senza ripetere i concetti, Sì, soltanto facendo vedere quello che speravo vedessero. Ok, scusate. Quindi fondamentalmente il contenuto della sessione, l'introduzione comprendeva il contenuto della sessione, Quello che sono le connessioni logiche fra i vari punti ed argomenti che provo a mettere in relazione durante questa relazione. Quindi l'importanza dell'agricoltura, l'evoluzione dell'irrigazione come strumento pensato e creato per la gestione appunto delle risorse disponibili atte a sviluppare l'agricoltura stessa. Il concetto dell'associazione, del concetto di efficienza alla microirrigazione nel senso di distribuzione uniforme ed efficiente delle risorse. Questo grazie all'applicazione localizzata con un rilascio lento e controllato delle acque e dei fertilizzanti all'impianto di microirrigazione. Per arrivare appunto al confronto, se vogliamo, con le tecniche che dal passato ad oggi hanno visto un miglioramento dell'efficienza in rigua che oggi, grazie alla microirrigazione, raggiunge valori attorno al 95%. Da qui penso che posso riprendere il percorso fluido narrativo. Grazie al confronto c'è possibile affrontare e apprezzare i vantaggi di una tecnica efficiente, cioè quello dell'applicazione in modo uniforme con il minore spreco delle risorse. Credo che a questo punto più o meno tutti ci troviamo con una domanda in sospeso. Perché parlare di efficienza in rigua in una sessione di automazione? Proviamo ad andare per ordine. Negli scorsi webinar sono stati affrontati diversi argomenti inerenti al mondo in riguo e alle diverse tecniche. Ogni sessione ha evidenziato l'importanza delle corrette applicazioni e dei singoli elementi all'interno di un impianto. Per chi li avesse persi o desiderasse maggiori informazioni, vi prego di contattarci attraverso i normali canali di comunicazione messi a disposizione dai clienti. Riprendiamo quindi il nostro percorso storico. E proviamo a vedere l'evoluzione in rigua da un'altra prospettiva. Da sempre ci sforziamo di migliorare, oltre alle tecniche e ai prodotti in rigui, anche la gestione delle informazioni, del tempo e degli imprevisti. E per rispondere a queste necessità, che siamo passati dalla previsione delle grandi piogge, a quello che oggi è un complesso sistema di analisi ed algoritmi, algoritmi previsionali, in grado di gestire in modo totale ed integrato tutte le informazioni, interne ed esterno, al nostro impianto in rigua. Provo ad amplificare ulteriormente la sensazione di domanda inespressa, che magari in questo momento potrete avere. E quindi a definire alcuni contorni ed aggiungere qualche altra considerazione. Mettiamo che sono un agricoltore moderno, ho già fatto degli investimenti importanti sul mio impianto, possiedo già un buon sistema di micrificazione, è efficiente ed io ho una gestione attente e professionale. A questo punto mi faccio delle domande, ma ho davvero bisogno di altro? Per quale motivo dovrei complicarmi la vita? Ma soprattutto, come può l'automazione essere per me un buon investimento? Oggi, quando parliamo di agricoltura moderna, agricoltura 4.0, agricoltura smart, ci riferiamo a un concetto, il concetto di efficienza nella gestione del tempo e dei costi. Ed accenniamo poco o pochissimo alla tecnica e rive in sé per sé. Questo perché forse fondamentalmente lo abbiamo già assimilato quanto sia importante irrigare correttamente. Le nuove e rinnovate sfide e quindi le difficoltà che i moderni agricoltori si trovano ad affrontare ogni giorno necessitano però di un approccio diverso. Le sfide, ambiente e risorse sono costanti di sempre. L'acqua limitata, la verabilità climatica, la riduzione delle superfici disponibili, la minore fertilità a causa di salinità ed asfissia crescenti impattano nelle decisioni a breve e medio termine e richiedono rapidità, controllo e flessibilità di gestione, rendendo necessario l'integrazione dei processi. La misurazione e i monitoraggi devono essere sempre più precisi ed articolari. Nuove sfide, le sfide tempo, costi e azienda, sono di fatto i veri volti della modernità. Per farla breve, oggi fare impresa, fare agricoltura e fare impresa. Abbiamo visto che disporre di una buona tecnica ed avere una buona soluzione micro e rigua rende l'impianto efficiente, cioè ottimizza i valori di velocità e di qualità, riducendone costi e sprechi. Vediamo però adesso come, grazie all'automazione, l'impianto da efficiente diventa efficace, aumentando la flessibilità ed il controllo, riducendone i rischi, proteggendo ed ottimizzando il tempo e gli investimenti. In effetti, se non ce ne fossimo resi conto, un impianto in riguo è già di per sé un sistema integrato. L'automazione ci consente quindi di integrarne ulteriormente alla gestione e l'uso delle risorse e dei componenti all'interno delle applicazioni stesse. Monitorando, reagendo ed intervenendo in modo puntuale, preciso ed efficiente, ma soprattutto automatico a quelle che possono essere delle variabilità e delle necessità, ma anche delle condizioni dell'impianto stesso. Cioè, ottimizzare in modo sinergico ed interconnesso tutti i processi che vanno dal momento della presa in consegna della risorsa dell'acqua, fino ad assicurarsi che ognuna di queste gocce arrivi all'apparato radicale della pianta, integra nel modo e nelle caratteristiche, ottimale per le sue assimilazioni. Il tutto rendendo questo processo semplice e facilmente controllabile. Bene, abbiamo capito che, integrando i processi, potremo rendere il nostro impianto già efficiente, ma anche efficace. Cerchiamo adesso di vedere cosa fare, come farlo e perché. Proviamo a schematizzare la logica di un impianto automatizzato, un complesso sistema di informazioni e processi nel quale l'uomo assume un ruolo centrale per la planificazione ed il monitoraggio dei risultati. All'automazione vera e propria, le centraline, i programmatori, i sensori, è affidato il compito di esecuzione e controllo delle dinamiche e dell'attività svolte. Alle componenti dell'impianto, invece, lo svolgimento e l'applicazione efficiente e puntuale. Se proviamo a dare una forma a questa logica, possiamo notare come gli strumenti e gli elementi che già conosciamo si integrano perfettamente in un'architettura di sistema e che la gestione dei dispositivi, come i programmatori, i sensori e quant'altro, assume un ruolo centrale. L'errore più comune, però, pensando ad un sistema, è quello di sottovalutare l'importanza del controllo di insieme. Tutti gli elementi, così strettamente interconnessi, hanno infatti una pari importanza all'interno del processo funzionale ed ognuno porta con sé le informazioni necessarie al corretto svolgimento di ogni operazione. Pensiamo ad esempio all'importanza che può avere un raccordo o un giunto. Sono elementi meccanici sprovvisti di ogni logica. Eppure, in caso di non tenuta, sono capaci di contribuire a riduzioni di pressione o portata così elevati e tali da influenzare l'efficienza di ogni altro dispositivo. Potremmo mai dotare di intelligenza un raccordo a compressione? Non credo che avrebbe senso. Però, lo ha mettere in relazione i valori di portata e pressione rilevati con il tratto di linea attualmente in funzione. Magari chiudendo o mettendo in pausa lo step in rigua o informando tempestivamente ed in modo preciso l'operatore addetto alla manutenzione. In poche parole, automatizzare rende efficace il nostro impianto e per farlo deve gestire e controllare i dispositivi ed i processi del sistema. Ma anche monitorare e conoscere ciò che avviene sul nostro impianto in ogni fase e momento per informare o intervenire in modo più o meno indipendente per ogni risultato, situazione, anomalia o problematica rilevata. Per rendere efficaci le attività, dobbiamo perseguire tre semplici concetti. Rendere efficace ciò che è efficiente. Rendere semplice ciò che deve essere flessibile ed adattabile. Ridurre ogni forma di spreco e massimizzare tutte le risorse. Iniziamo a delineare il processo di automazione seguendo il percorso naturale dell'acqua. Partiamo dall'approvvigionamento e quindi dalla gestione delle pompe e dei dispositivi di alimentazione passando per la lavorazione e la sua trasformazione in risorsa utile quindi le fasi di filtrazione e fertilizzazione per finire poi con il processo di distribuzione la gestione delle valvole e degli elementi idraulici di settore. Il flusso delle informazioni termina con il controllo dell'applicazione ed il risultato, la lettura dei volumi, il monitoraggio della zona umida, eccetera. Analizziamo quindi passo per passo e con esempi pratici cosa significa fare un'automazione applicata. Poiché ogni percorso inizia dal principio in questo caso si tratta di integrare la gestione dell'approvvigionamento idrico questo processo è fondamentale al corretto svolgimento di tutte le operazioni che seguiranno nel nostro impianto e nel virtuale percorso dell'acqua fino alla pianta. Seppur scontato come argomento ben pochi impianti oggi integrano questo aspetto in un modo attivo con l'impianto in riguo rinunciando così agli enormi benefici e purtroppo aumentando molto le criticità del sistema stesso. In termini pratici cosa si intende per gestione del sistema di approvvigionamento? La flessibilità e la massima adattabilità del nostro impianto alle diverse esigenze a garanzia di continuità di esercizio uniformità di applicazione in funzione delle variabili fisiche per esempio dettate dalla topografia del nostro impianto oppure applicative o di emergenza. Facciamo un esempio adeguare l'erogazione in modo rapido e flessibile bilanciando l'impianto assegnando cioè ai diversi blocchi irrigui le diverse pompe e le eventuali valvole di linea oppure per necessità di tipo elettrico il contratto di fornitura in kilowatt limitato oppure idraulico il PN delle tubazioni installate la necessità di applicare dei tempi di sfasamento in positivo o in negativo per l'attivazione fra le pompe o ancora quelli di apertura o di chiusura delle valvole rispetto alle pompe stesse. Un impianto che non si adatta non può essere efficace. Anche l'impianto meglio progettato quello meglio installato o quello più efficiente. Le operazioni di controllo e monitoraggio devono essere continue. I più comuni problemi idraulici causano rotture o danneggiamenti all'impianto ma anche una peggiore uniformità di irrigazione. Questi problemi sono direttamente connessi ad una gestione spesso troppo statica del sistema di approvvigionamento. Alcuni effetti come la cavitazione colpi da rete o assenza di pressione della corretta pressione all'emettitore sono solo alcuni dei più noti e frequenti disagi sofferti da chi non gestisce correttamente questa fase del processo. Definito quando e quanta acqua entra in un sistema è adesso fondamentale preoccuparsi di trasformarla e assicurarsi di renderla idonea e conforme. La filtrazione automatica argomento già trattato ha un ruolo di apicale importanza all'interno dell'intero processo ma come e perché integrare un'attività autonoma che è già di per sé automatica all'interno di un sistema è presto detto. La buona riuscita di un impianto filtrante sappiamo che risiede nella corretta gestione della fase di autopulizia detta contro lavaggio degli elementi stessi. Durante questa operazione l'intero impianto però soffre di alterazioni in termini di perdita di pressione e di portata. Quanto questo possa influire sull'efficacia di applicazione dell'acqua se è in fase di irrigazione o di applicazione di fertilizzante in caso di fertilizzazione è abbastanza evidente. Un sistema integrato tiene conto delle diverse fasi operative dell'impianto e le gestisce di conseguenza interrompendo mettendo in pausa oppure posticipando le azioni secondo le attività predefinite. Facciamo anche in questo caso qualche esempio ad uso pratico impedire dei controllavaggi non necessari a causa della possibile fluttuazione della pressione rilevata dal differenziale durante ad esempio l'avvio del programma di irriguo o delle fasi di chiusura del ciclo appena effettuato oppure sospendere o mettere in pausa il programma di irrigazione offerti in irriguo per il tempo della durata del controllavaggio o ancora ritardare l'avvio dell'esecuzione di un programma posticipandolo al termine del ciclo del lavaggio stesso filtrare bene previene che gli emettitori si ostruiscano perdendo quindi di efficienza in irrigua gestire bene la filtrazione invece previene quegli effetti indesiderati di tipo indiretto che potrebbero ridurne l'efficienza di applicazione a tutto l'impianto aumentando quindi l'efficacia dei diversi processi negli incontri passati abbiamo visto quanto la fertilizzazione sia importante e quanto questa tecnica sia sempre più efficiente ed attuale la possibilità di somministrare in modo costante ed uniforme il corretto quantitativo di elementi che la pianta è in grado di assorbire ed assimilare rappresenta la massima espressione e l'efficienza di un impianto in irriguo le diverse tecniche e metodologie di applicazione richiedono un elevato livello di controllo precisione di gestione e precisione di gestione che oltre ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni permette anche il risparmio di enorme quantità di tempo di soldi nonché di ridurre gli sprechi e l'eventuale azione a correzione l'obiettivo della fertilizzazione abbiamo visto è quello di distribuire in modo uniforme e continuativo quanto necessario alla pianta per ottenere questi risultati però è indispensabile controllare e monitorare le costanti e le variabili in modo quanto più rapido e continuativo i programmatori moderni regolano ed adattano costantemente la frequenza di iniezione mantenendo i parametri di ricetta in modo automatico ed automatizzato elaborano gli input ricevuti dalle sonde dai sensori e dai diversi contatori e le mettono in relazione con le uscite per l'attivazione di canali di fertilizzanti poiché la gestione della fertilizzazione deve necessariamente senza compromessi seguire le esigenze della cultura e non viceversa le variabili di applicazione sono la vera sfida alla semplicità la programmazione di un banco di fertilizzazione offre la flessibilità il controllo ma soprattutto la facilità di uso e di applicazione ma anche la facilità di comprensione delle attività e dei risultati che siano essi attesi oppure imprevisti l'efficacia di una fertilizzazione ben fatta è il risultato di una gestione intelligente e di un'applicazione precisa e puntuale un buon sistema deve essere in grado di adeguare la programmazione alle esigenze delle diversità diversità di tipo culturale presente ad esempio nei diversi settori irrigui all'interno di uno stesso impianto potremo infatti avere necessità di gestire diverse culture piuttosto che in caso di aziende o settori monoculturali avere diverse necessità applicative dettate però dall'età o dal diverso stato fenologico della cultura stessa l'errore più comune fatto in fertilizzazione è la valutazione e l'applicazione su base esperienziale non che l'esperienza sia un difetto ovviamente ma affidarsi ciecamente e senza attesa di riscontro può diventare motivo di inefficacia spesso si ha la convinzione in alcuni casi pure giusta di aver applicato correttamente i quantitativi necessari purtroppo però a causa di fattori interni o esterni dell'impianto la realtà è ben diversa e dei risultati sono meno soddisfacenti per concludere il viaggio virtuale dell'acqua all'interno del nostro impianto non potevamo non parlare della parte più coinvolta da un punto di vista pratico e cioè quella distributiva che le consente fisicamente di arrivare dove necessario aprire e chiudere una valvola per quanto sembri un'operazione semplice comporta una serie di accorgimenti e complessità che possono influenzare il corretto funzionamento di tutto l'impianto pensiamo ad esempio cosa comporta non gestire correttamente i tempi di sfasamento in apertura e in chiusura delle valvole su impianti con topografie particolari fenomeni di sovrappressione nei settori più in basso svuotamento ed effetto di vuoto per quelli in alto controllare e monitorare le portate ed i volumi ci permetterà invece di avere occhi e braccia all'interno del nostro sistema immaginiamo ad esempio una programmazione che prevede l'attivazione in sequenza di due blocchi o settori ridi aventi portate nominali diverse l'efficacia di una gestione integrata ed automatica consente di mettere in relazione il contatore volumetrico con le portate delle valvole in uso questo ci permette di monitorare costantemente la situazione ed in caso di anomalie intervenire il controllo ed il monitoraggio delle portate reali ed istantanee come si può notare dal grafico non è quasi mai un'operazione lineare è infatti necessario adattare le letture e le azioni in momenti diversi una volta che non si apre o si chiude correttamente una valvola scusate che non si apra o non si chiuda correttamente può causare diversi problemi sia all'impianto che alla cultura stessa non è certo di minore importanza la possibilità di anticipare o almeno identificare per tempo ed in modo quanto più accurato possibile gli eventuali problemi derivanti da rotture perdite blocchi anche quelli occulti terminiamo quindi parlando dell'aspetto più familiare all'automazione identificato con la programmazione il processo di applicazione è la gestione sul come ed il quando erogare l'acqua o i nutrienti alla piatta parlare nello specifico di applicazioni in un impianto irriguo richiede forse mille altre considerazioni mi limiterò in questa fase ad evidenziare come l'automazione di un sistema oltre a quanto già visto e cioè ottimizzare ogni fase del percorso che porta l'acqua attraverso il nostro impianto rappresenta anche il miglior strumento a disposizione per la pianificazione ed il controllo dello svolgimento delle diverse operazioni se la fertilizzazione deve assecondare le necessità della cultura la programmazione dei processi di un sistema siano essi la filtrazione l'irrigazione eccetera devono necessariamente conformarsi alle disponibilità ai vincoli e non ultimo alle esigenze di gestione ciò richiede una flessibilità di programmazione che va ben oltre la semplice esecuzione a tempo o per calendario l'integrazione dei diversi dispositivi e degli elementi presenti consente di modellare i programmi e le sequenze di applicazioni alle diverse situazioni ad esempio avviare un ciclo in rigo definito per tempi e per volumi quando il clima lo richiede ed eseguirlo per un numero di ripetizioni variabile in funzione delle reali necessità di sviluppo ad esempio in funzione dei valori accumulati di raggiamento giornaliero oppure alternare con la rotazione dei settori all'interno di un programma ciclico il momento del giorno nel quale lo stesso settore verrà elegato pensiamo anche come un'adeguata programmazione può aumentare la flessibilità idraulica del nostro impianto risolvendo in modo automatico e programmato le difficoltà impreviste oppure preesistenti oppure ancora ad esempio adattando le sequenze e gli accoppiamenti di un settore per bilanciare l'impianto aumentando l'efficienza di gestione della finestra di rigua riducendone i rischi i costi progettuali eppure quelli energetici poco fa ho accennato citando alcuni esempi a quanto sia importante gestire ed effettuare un'applicazione in rigua che segue le variabili di clima e culturali adeguare la programmazione a questo modello offre evidenti ed immediati benefici ma come tutte le buone intenzioni se una cosa non è semplice rischia di non essere efficace grazie ai moderni controller questo tipo di gestione non è solo possibile ma è anche facile da programmare e da controllare rispetto a quanto sia ad esempio il solo affidarsi ad una programmazione fatta a tempo siamo giunti al termine di questo breve percorso affrontare un argomento trasversale come questo non è mai scontato spero vivamente che lo abbiate trovato in qualche modo interessante e mi auguro di aver generato più interesse fatto di domande e spunti di riflessione che risposte parlando con un collega qualche giorno fa è emerso che nei 20 minuti a disposizione con un argomento del genere sarebbe stato impossibile trattare prodotti e caratteristiche specifiche questo mi ha fatto riflettere che probabilmente avrei rischiato di deludere coloro che magari più pratici e desiderosi di trovare un prodotto o una soluzione o una reale necessità si aspettavano di più un corso tecnico su centraline sensori o che altro per ognuna delle slide che abbiamo appena visto avremmo potuto parlare e discutere per un tempo indefinito dei prodotti discutere di soluzioni di catalogo e di come programmare quella centralina o configurare quel prodotto per far sì che ma avremmo parlato di contenuti di prodotto non dei perché intendiamoci ritengo assolutamente fondamentale l'importanza di conoscere i prodotti e le loro caratteristiche tecniche ma oggi proprio perché la tecnologia fa già parte di noi e del nostro quotidiano ritengo che sia necessario comprendere anche le potenzialità di applicazione forse prima ancora del mero e vero contenuto all'interno della scatola se me lo consentite se me lo consentite oggi nessuno si sognerebbe di esaltare le caratteristiche di una moto per il cambio a 5 marce o di una televisione per il telecomando a 100 canali poiché abbiamo assimilato le tecnologie ci entusiasma di più estendere l'immaginazione o l'applicazione di uso che potrei fare con quel dispositivo in un impianto in rigua non è diverso abbiamo da decenni la disponibilità di centraline sensori tecnologie radio internet eccetera eppure nonostante tutto ancora oggi manchiamo di immaginazione sull'importanza ed il valore di insieme dell'applicazione eccoci quindi a soluti finali desidero chiudere con queste immagini qualche mese fa ho avuto il piacere di partecipare e cooperare ad un evento organizzato dall'università talandese di Chiang Mai all'interno delle diverse attività c'era anche un concorso rivolto a bambini di età compresa fra 6 e 10 anni nei quali veniva richiesto loro di disegnare come immaginavano l'agricoltura del futuro vi lascio con questi disegni ed un'osservazione personale la bellezza e la gioia nei colori per una tecnologia che certo non spaventa colgo l'occasione per salutare il team di supporto e ringraziarlo per lo straordinario lavoro ricordandovi che il nostro personale tecnico ed economico è sempre a vostra disposizione attraverso i canali social a tutti voi grazie per l'attenzione e la partecipazione grazie per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione